Diesel e Personalit, la vera dimensione di Stelvio e il piacere di guidare un SUV importante, gratificante come Alfa Romeo Stelvio e la soddisfazione di vedergli macinare chilometri su, chilometri con consumi davvero contenuti. Si fa un gran parlare in queste settimane della versione quadrifoglio del SUV, quella con motore Ferrari da oltre 500 cavalli vapore per capirci, che nella gamma fa da ciliegina, ma la vera sorpresa è questa Stelvio con motore 4 cilindri turbodiesel da 180 cavalli vapore, senza trazione integrale, posteriore, e con un comodo cambio automatico. Questa la versione che TG.com 24 ha provato per una settimana a Roma, spingendosi poi fino in Umbria e che ci ha fatto comprendere come sia questa la vera dimensione del SUV Alfa Romeo, che può essere utilizzato nella sua pienezza senza svenarci al distributore. La scheda tecnica. E la carta di circolazione. Ci insinuano un dubbio. 4,6 litri di gasolio per percorrere nel ciclo combinato 100 chilometri. Possibile. La stazza di quelli imponenti. Ma il peso vuoto di 1.600 kg. Pochi. G dovrebbe darci un'indicazione puntuale dell'efficienza di Stelvio 2.2 diesel 180 cavalli vapore Euro 6. Certo non si corre. Ma il dato sul consumo combinato significa proprio questo. Un'alternanza di lento e veloce. Curvoni e rettilinei. Citte e fuori Citte. E ovunque il nostro SUV va molto. Ma molto bene. La nostra Alfa Stelvio diesel scattante. Dinamica. Ha un handling esagerato e diverte pure. Perce la trazione posteriore esalta la guida sportiva e non rappresenta più come in passato un handicap quanto a Stabilif. Troppo elevata l'assistenza dell'elettronica per perdersi il retrotreno. Non sbanda mai. Non sbagli mai stando al volante. Alla fine della settimana ci siamo attestati attorno ai 5 litri per 100 km. 7 euro circa per fare 100 km. E non ci siamo fatti mancare niente in termini di velocità quando abbiamo portato Stelvio in autostrada all'altezza di Orte. Per rientrare nella capitale. Il tutto col valore aggiunto di viaggiare in un'auto a dir poco fantastica. Comoda e spaziosa. Con un bel bagagliaio. Insomma un'ammiraglia vera. Anche se nell'abito inedito del SUV. Che di una sensazione di grande solidità ed ben costruita. Precisa nei dettagli. Per un professionista che viaggio molto. E quante docile il cambio automatico a 8 rapporti. Un modello e una versione di sicuro interesse. Il prezzo certo non basso. Si parte da 51.000 euro e certe dotazioni vanno aggiunte. Come il cruise control adattativo e alcune chicche tecnologiche che la concorrenza ormai fornisce. Di serie. Ecco la pecca forse questa. Che ci siano vari extra a pagamento. Come lo sono pure i cerchi più grandi dei nostri da 17 pollici standard. E allora il prezzo lievita a livello delle versioni 4x4.